il richiamo di cthulhu il guardiano si trattava della chiesa occidentale un edificio abbandonato e sconsacrato che nulla aveva a che fare con gli ultimi acquisti mirati di alexander soffre in presenza dell'occulto a quanto pare il secondo furto ha avuto successo ed è stato rubato lo stesso libro che interessava al primo ladro è venuto fuori che l'uomo che alexander crede che sia Darkus è in effetti Bobby Seals braccio destro di Obenion Seals era appena entrato nello studio passando attraverso il muro il richiamo di cthulhu com'è andata nonostante ostentasse indifferenza il nervosismo di michael fu evidente non appena ebbe messo un piede dentro casa aveva preceduto le due donne mentre di solito si schierava dietro di loro in un atteggiamento protettivo e soltanto quando aveva intravisto ellen nel salotto si era deciso a togliersi sciarpa e cappello bene menti ellen in realtà non era del tutto una menzogna perché avevano ottenuto informazioni che potevano rivelarsi chiave nelle loro indagini ma alexander non parlava da quando si erano ricongiunti sul tetto del palazzo più basso sembrava che il detective avesse intuito un dettaglio negativo che a lei ancora sfuggiva udendo la sua risposta infatti si alzò e si diresse verso lillian e janet che erano appena entrate nel salotto le guance rosse per il freddo c'era una strana luce negli occhi della più giovane che si spense non appena ebbe incontrato il dipinto alla parete lui è morto e lei si sente in colpa perché si è divertita una festa potizzò ellen solo allora ripensò a ciò che michael aveva insinuato qualche sera prima e al tempo che lillian aveva passato in salotto il pomeriggio precedente pretendendo di essere lasciata sola se michael aveva ragione era un sentimento strano ma qualcosa la spinse a pensare che non fosse ricambiato non nello stesso modo è stata una festa piacevole provò a domandare a janet che si stava sfregando le mani davanti al camino sì credo di sì ci siamo tenuti piuttosto in disparte niente balli qualche chiacchiera necessaria buon cibo ma siamo sopravvissuti niente sacrifici all'ordine del giorno pensò ellen ma lo tenne per sé era meglio che non conoscessero il timore di alexander che per fortuna si era rivelato infondato si è stato nella sala per la maggior parte del tempo continuò michael è scomparso verso le otto e mezza ma è tornato praticamente subito era nell'appartamento di obennion udendo l'affermazione di alexander tutti coloro che non avevano assistito alla scena sul sultarono vi ha visti chiese lillian spaventata no non si è accorto di me era la sola cosa che alexander avesse detto quando era tornata sul tetto seals era apparso nel corridoio attivo allo studio un attimo dopo l'ingresso di obennion non prima molto probabilmente ignorava che ci fosse un'intrusa ellen spiegò a grandi linee come si erano divisi i compiti poi alexander proseguì ho avvertito che stava arrivando con le solite fitte alla testa ma ellen si era già nascosta nella camera da letto era lì per il suo capo lo ha sentito parlare con un uomo leary precisò ellen ricordando che obennion l'aveva chiamato eddy leary sì e un omone può darsi che si occupi di far sparire i loro rivali sembrava che seals sapesse che si erano allontanati da lui e volesse spiarli cos'hanno detto domandò michael si era seduto sul bracciolo accanto a ellen quando aveva sentito dell'apparizione di seals hanno capito che c'è sotto qualcosa aia ellen non capiva qual era il problema anche janet ignorava il significato di quelle parole che significa alexander adesso seals ha la certezza che obennion sospetti qualcosa non conosciamo ancora le intenzioni di seals di darcus però qualunque idea mi è mente ora ha tre alternative sbarazzarsi del boss soggiogarlo o affrettare le cose contò sulla punta delle dita sbarazzarsi di obennion potrebbe originare nuovi sospetti quindi sarebbe più logico soggiogare la sua mente ma non sappiamo quanto duri il suo incantesimo resta quindi l'ultima opzione affrettare le cose significerebbe un nuovo sacrificio altre persone morte tentennò janet non lo sappiamo ma di sicuro comporterebbe vederlo sparire di nuovo e noi abbiamo bisogno di fermarlo rimasero in silenzio persi nei propri funesti pensieri finché ellen non trasse un profondo respiro e parlò quindi dobbiamo affrettare i tempi anche noi che intendi chiese michael hai una pista lei a noi obennion ha acquistato diversi locali sul consiglio di seals e pare che lui abbia insistito perché prendesse anche la vecchia chiesa occidentale è un edificio abbandonato ma sembra che seals voglia tenerlo così com'è cosa sappiamo di quel posto poco e niente si trova nel merchandise creek a un isolato dall'all wooded graveyard il cimitero più vasto di arkham la conosco solo perché ne ho sentito parlare da alcuni compagni di corso è stata edificata agli inizi del secolo scorso ma l'hanno abbandonata nel giro di ottant'anni perché circolavano strane voci del tipo le solite storie sulle chiese sconsacrate fantasmi spiriti maledizioni la verità è che è stata costruita interamente in legno e non era sicura smetterei di tenigrare chi sostiene certe voci borbottò michael facendo in modo che solo ellen potesse sentirlo perché è rimasta in piedi allora si interrogò alexander tu butteresti giù una chiesa davvero esclamò lilian chissà se quel fervore religioso derivava dall'uomo che li scrutava dall'alto in commendo come uno di quei fantasmi dubito però che tarkus voglia tenerla così com'è per spirito cristiano riflette michael invece sì saltò su genet battendo un pugno contro il palmo aperto pensateci la polizia indagherebbe ovunque se ricevesse una soffiata fingiamo per il momento che non ci siano agenti corrotti o che gli italiani cerchino vendetta basta anche solo pensare ai curiosi arriva una soffiata su una merce nascosta in una chiesa consacrata o sconsacrata non importa chi ci metterebbe piede genet ha ragione concordò ellen da una parte i religiosi si tengono lontani per timore di offendere il signore dall'altra parte i superstiziosi hanno paura dei fantasmi e quelli nel mezzo sono davvero pochi michael si alzò sul viso un'espressione concentrata dunque siamo d'accordo alexander a noi dobbiamo entrare nella chiesa due uomini su ciascun lato sospirò ellen lasciandosi cadere sul divano argomenta lanciò un'occhiata a michael la chiesa è tenuta sotto stretto controllo dagli scagnozzi di sils non c'è un punto libero e senti questa l'iri è tra loro che il boss l'abbia mandato a sorvegliare sils no ha perso anche lui cosa te lo fa dire tu cos'hai per me sospirando ma con un sorriso sghembo sul volto michael cercò nella giacca e le lanciò una tavoletta di cioccolato che lei afferrò al volo aveva preso l'abitudine di tenerne sempre una con sé quando ellen era nelle vicinanze e lei se n'era accorta dopo tutto se michael pagava logan e nanny per le informazioni perché non poteva ricompensare anche ellen logan dice che hanno gli occhi vitrei privi di vitalità anche se in realtà ha detto qualcosa come sembrano morti che camminano hai di nuovo usato i bambini credevo che avessimo deciso che era troppo pericoloso mi stava seguendo così l'ho mandato avanti non dubito della vista o delle sensazioni alla mccrindle ma non sono ancora sicura che sils ignori la mia identità ho detto a logan che era l'ultima volta e che se lo avessi trovato di nuovo tra i piedi lo avrei preso a calci e poi sarei andata dritta da marco a rifedirglielo e basta e che a prescindere da qualunque informazione lui abbia non lo pagherai più michael arrise questa mi sembra la minaccia perfetta si fece serio ripensando alle dichiarazioni di ellen quindi non sappiamo come entrare nella chiesa dobbiamo solo sperare che beh alexander abbia avuto fortuna dieci minuti dopo scoprirono che era stato così il detective blake si era recato al municipio per chiedere le planimetrie della chiesa fingendo di far parte della banda di seals aveva sborsato una banconota da 50 per convincere l'addetto comunale di non averlo visto in modo da passare inosservato l'impiegato avrebbe pensato di aver avuto a che fare con un gangster eseguendo i suoi ordini e tenendo la bocca chiusa e non avrebbe mai e poi mai provato a parlare di lui con gli irlandesi poiché avrebbe significato essere in contatto con la mala vita il piano poteva funzionare soprattutto se avessero agito quella sera stessa non so perché ma ho avuto una strana sensazione spiegò alexander appiattendo due planimetrie sul tavolo da pranzo avevo pensato a un condotto fognario a dire la verità ma se l'ingresso sarebbe stato facile non è detto che le fogne abbiano uscita nella chiesa concluse ellen esatto ho comunque voluto provare ed è venuto fuori questo guardate alexander posò il dito sulla mappa fognaria in corrispondenza della chiesa c'è un passaggio ma è parallelo alle fogne non ci passa attraverso grazie a dio esalo lilian sbucca nel cimitero all'altezza della cripta di trisham goddard chi ho indagato ed era uno dei fondatori della chiesa occidentale è morto nel perché dovrebbe esserci un passaggio che porta alla sua tomba non è chiaro ma potrebbe essere ancora aperto potremmo controllare no disse risoluta janet desteremmo troppo l'attenzione nel caso in cui darcus conosca davvero questo secondo ingresso sospirò potrebbe riconoscerci ha visto tre di noi ieri sera e non sappiamo se sia in grado di avvertire alexander rimane solo ellen e io non la mando da sola ellen avrebbe voluto ribattere ma la decisione con cui janet aveva parlato la stupì si chiese se in effetti pur a quattro piani di distanza lei e lilian non avessero provato lo stesso terrore della notte dal molo ci affidiamo alla fortuna allora decretò michael bene prepariamoci la sera era il momento migliore questo era il solo punto su cui concordassero all'unanimità se il passaggio fosse stato chiuso sarebbero potuti tornare indietro e riprovare la notte successiva ma almeno nessuno li avrebbe notati tranne per il fatto d'intrufolarsi in un cimitero dopo l'orario di chiusura per l'occasione ellen indossò di nuovo i pantaloni di logan mentre janet prestò a lilian un paio dei suoi perché era necessario muoversi agilmente sebbene le fogne fossero state escluse sembrava che lilian fosse riluttante a impregnare i suoi preziosi abiti alla moda devo fare un'ultima cosa un pensiero l'aveva tormentata dalla sera precedente da quando aveva visto sils darcus passare attraverso le pareti finora avevano avanzato solo delle ipotesi e lei non aveva mai presenziato un'evocazione da parte dello stregone ma adesso era cambiato qualcosa e se invece avesse scoperto l'intrusione di ellen e li stesse aspettando nella chiesa darcus non sarebbe stato fermato da un semplice colpo di pistola cautamente senza farsi vedere dal resto del gruppo impegnato a finire di vestirsi scivolò fuori dalla camera da letto e raggiunse la sala grande era una stanza particolare che doveva essere destinata a ospitare dei ricevimenti ma che al momento non aveva una funzione precisa se non quella di celare i libri di alexander forse lilian lo sapeva ed era per questo che teneva la porta perennemente inchiavata tuttavia ormai ellen aveva imparato a meno dito a scassinarla entrò e tastò la parete in cerca del cassetto nascosto domandandosi per l'ennesima volta a cosa servisse un quadrato vuoto nel muro a un arcivescovo e lo trovò quasi subito all'interno c'erano i tre libri recuperati e impilati uno sopra l'altro e accanto le lettere prelevate dalla casa dei mccrindle nel main era rischioso e sudava freddo mentre lo faceva ma ellen prese i tre libri e li infilò nella borsa ringraziando che non fossero troppo pesanti avrebbe detto che stava portando qualche coltello da cucina per sicurezza o roba del genere era appena uscita in corridoio quando incrociò janet e si sentì mancare un battito dov'eri le chiese l'amica io ero andata in cucina mentì ellen cercando di ritrovare un respiro regolare un'immagine le attraversò la mente la scritta sulla busta in cima alle lettere nel nascondiglio segreto di alexander janet ho dimenticato di chiedertelo perché beh è successo di tutto in questi giorni tu hai studiato diverse civiltà mediterranee giusto oh sì ma a grandi linee se ti riferisci agli egiziani posso definirmi un'esperta no purtroppo non si tratta di loro pensavo a popoli come i fenici allora confermo solo a grandi linee cosa ti serve ricordi le lettere di darcus dietro una busta c'era un nome che ho tradotto come dagan quindi dagon credi possa avere a che fare con darcus non ne sono certa sai dirmi qualcosa di più su di lui solo che fa parte della mitologia mitologia o religione dipende da che punto la guardi janet si sistemò gli occhiali sul naso come faceva sempre prima di raccontare a ellen delle civiltà studiate nel corso dei suoi viaggi era una divinità dell'agricoltura nella lingua ugaritica e suo nome significa grano dunque possiamo dire che sia legato alla fertilità questo non li portava da nessuna parte né consolidava l'intuizione di ellen ma poi genete riprese hai parlato di fenici e in effetti i popoli di navigatori hanno molto a che fare con dagon se da una parte è legato all'agricoltura dall'altra daga rimanda al mare il suo aspetto e i suoi ruoli sono cambiati nel corso delle ere e delle religioni tanto da essere rappresentato come un uomo dal busto e la coda di pesce nel cristianesimo viene persino inserito fra i demoni ma era una pressi comune con le divinità politeistiche e e c'era arrivata anche lei dagon il mare il corpo metapesce ellen tirò la cinghia della borsa sulla spalla e ripresa a camminare andiamo ci penseremo al ritorno semmai un ritorno ci sarebbe stato penetrare nel cimitero non fu difficile e neppure dovettero scassinare i lucchetti che chiudevano i vari cancelli si sollevarono a vicenda oltre le mura di pietra che delimitavano l'area sperando che non ci fossero persone di guardia agenti o irlandesi atterrarono sull'erba soffice sulla quale era caduta pioggia per l'intero pomeriggio e cercarono di tenersi il più possibile vicini fra loro per fortuna si erano portati dietro un paio di lanterne a olio i lampioni lungo i sentieri erano spenti ed ellen ricordò come quel luogo facesse parte di un parco più grande che culminava con la contemplazione della morte che stronzata alexander teneva la mappa e li guidava attraverso le tombe a passo svelto in direzione della cripta della famiglia goddard era un edificio piccolo ma imponente rispetto a quelli vicini proprio come si aspettava dal luogo di eterno riposo di un uomo di chiesa non servì girarci intorno per trovare un secondo ingresso perché la doppia porta della cripta si aprì senza problemi ellen sussultò forse quella era davvero una trappola di darkus o forse nessuno chiude a chiave una dannata cripta si impose di ragionare hai sentito esclamò genet di colpo la lanterna nella sua mano sussultò al suo movimento brusco e la fiamma all'interno vacillò sono rumori immaginari sta tranquilla cercò di calmarla ellen molto più preoccupata per la lanterna stavano per calarsi sotto terra e dubitava che ci sarebbero state altre fonti di luce la cripta era strutturata in maniera semplice con tre file di tombe orizzontali sulle pareti laterali e una bara scolpita nella pietra al centro sulla parete di fondo c'erano le generalità della persona che giaceva in quella bara nome cognome data di nascita e di morte reverendo trisham goddard arkham dicembre 21 1763 arkham ottobre 15 1810 amato nella vita come nella morte non era tanto vecchio riflette ellen per poi maledirsi stando a ciò che aveva appreso l'arcivescovo girot de chateaubriand aveva avuto circa la stessa età del reverendo quando era stato ucciso lillian però sembrava troppo concentrata sulla bara e in particolar modo sul coperchio per notare la sua affermazione il resto del gruppo stava tastando la parete di fondo e il pavimento in cerca di un passaggio nascosto ma ellen si concentrò sul punto che anche gli occhi sgranati di lillian stavano fissando la ragazza se ne accorse e la guardò a disagio il il co il coperchio gli angoli del coperchio non aderivano alla bara ellen si chinò per osservare da vicino mentre lillian trasaliva spaventata e provò a spostare la lastra di pietra era troppo pesante per lei così fece un cenno a janet che posò la lanterna e corsa ad aiutarla entrambe avevano meno paura di lillian e per motivi logici seppur differenti janet era abituata di seppellire sarcofagi e mummie mentre ellen era certa che non avrebbero trovato un cadavere all'interno della bara aveva ragione ecco l'ingresso annunciò scavalcò le basse pareti e diede un calcio sul doppio fondo che si spostò rivelando gradini di pietra che conducevano in basso si fece dare la lanterna di janet e li precedette all'interno scivolando nei cunicoli umidi e bui rischiarati appena dalla flebile fiammella camminarono in silenzio per diversi minuti seguendo l'unica strada che si stagliava di fronte a loro e rischiarono di inciampare soltanto un paio di volte purtroppo sebbene non si trattasse di fogne vere e proprie l'acqua trapelava dal soffitto e dalle pareti e ogni singola goccia riecheggiava nelle loro orecchie la sola consolazione fu che sarebbero riusciti facilmente a udire qualsiasi rumore sospetto un passo un altro e la loro meta si avvicinava un gran sonno colse ellen che vacillò rischiando di far cadere la preziosa lanterna michaelle posò una mano sulla spalla per sorreggerla e lei adagiò l'oggetto a terra per tenerlo al sicuro poi tutto si oscurò lillian odiava quella situazione i suoi stivaletti si erano infangati un'eventualità che avrebbe considerato se solo alexander non le avesse assicurato che non sarebbero passati per le fogne e quelle cos'erano allora le parve di avvertire l'acqua penetrarle fino alle calze inzupparle i piedi risalire lungo quei pantaloni così scomodi che non capiva come facesse Janet a indossarli abitualmente era perfino certa di aver udito il suono di un ratto non sapeva con esattezza quale verso facessero o se ne avessero uno in particolare ma sentiva che c'era un ratto nelle vicinanze perché si era cacciata in quella storia se lo domandava in continuazione e la risposta mutava ogni giorno lo aveva chiesto anche a Giro la sua copia dipinta a olio la sola a cui ormai potesse appellarsi la risposta era davanti ai suoi occhi lo stava facendo per lui aveva abbandonato gli agi e la comodità della propria casa per seguirlo un capriccio che aveva sperato durasse il più a lungo possibile ma certamente non in quella maniera voleva solo passare del tempo con Giro lontano da suo padre, dalla sua amata Boston da tutto ciò che aveva contornato i loro incontri voleva soltanto stare con lui che sciocca era stata non poteva vanificare la sua morte tornando a Boston come se nulla fosse accaduto piangendo la sua perdita sopra un letto comodo e caldo mentre i suoi amici continuavano a combattere perciò era rimasta e aveva anche acconsentito a recarsi a un ricevimento in piena regola con balli e conversazioni brillanti ma di certo non si aspettava che l'avventura successiva si sarebbe svolta in una fogna cosa avrebbe pensato di lei la Lillian di un mese prima che scalpitava per il sogno di diventare attrice e calcare i teatri della Broadway Avenue no, non avrebbe permesso a Darkuso, a chi che sia, di mettersi fra lei e il suo promettente agognato futuro lo avrebbero fermato e forse quella sera stessa e poi si bloccò quando la lanterna di Alexander si sollevò illuminando le due persone che li precedevano scorse mica il chino su Ellen che a sua volta si era appoggiata al muro sospirò quei due avrebbero dovuto essere più discreti se volevano tenere nascosta la loro storia lei aveva ascoltato anche troppo quella famosa sera dopo l'attacco a Chateaubriand Manor ma si era stupita di apprendere che Alexander lo sapesse da un po' in effetti era un investigatore privato al momento tuttavia non sembrava che si stessero scambiando effusioni ma che Ellen si fosse sentita male Lillian fece un passo in avanti per controllare e le poggiava una mano sulla spalla libera Ellen, stai... lei si voltò di colpo la pistola stretta nella mano senza dire una parola le sparò in faccia Alexander si era reso conto che qualcosa non andava e una parte di lui avrebbe voluto impedire a Lillian di avvicinarsi quella parte che ora lo avrebbe rimpianto per sempre un proiettile era partito dalla canna della colte di Ellen come se il tempo si fosse rallentato lo vide sfiorare il viso di Lillian colpire il suo orecchio e alla fine osservò la ragazza crollare a terra in un lago di sangue distinto sollevò il revolver ma Michael aveva appena fatto lo stesso mirò premette il grilletto sparò l'urlo di Janet non riuscì nemmeno a uscirla dalla gola si bloccò paralizzato come lei mentre un secondo proiettile colpiva Alexander in mezzo alla fronte dritto preciso mortale le gambe cominciarono a tremarle voleva cedere crollare a terra come i suoi amici far ragionare Ellen e Michael ma i loro occhi erano vuoti Darkus li aveva posseduti l'istinto di sopravvivenza aggì in maniera avventata stupida eppure la sola cosa che le fu concessa gli delle spalle ai due assassini a Ellie la sua Ellie e tentò di correre via prima che un terzo proiettile la colpisse in mezzo alla schiena quando Michael sbatté le palpebre si sentì come se avesse dormito per ore eppure erano ancora sottoterra diretti alla chiesa occidentale e una flebile luce proveniva dalla sua sinistra dove si trovava Ellen ma quando si erano voltati mancava la fiamma della lanterna di Alexander e si stava chiedendo perché o chi l'avesse spenta quando sbatté le palpebre un'altra volta e vide c'erano tre corpi davanti a lui c'era Lillian supina e con gli occhi chiusi il lato sinistro del volto ricoperto di sangue c'era Janet la sua schiena e una macchia rossa che si allungava sul pavimento umido c'era Alexander che lo guardava e un buco gli spuntava dalla fronte nella propria mano Michael scorse la pistola ancora fumante si impedì di crollare finché non avesse controllato Ellen si girò piano lentamente temendo ciò che avrebbe trovato ma lei stava bene no non era vero era viva ma non stava bene anche la sua mano era stretta intorno alla pistola che ancora puntava in direzione di Janet lo sguardo della ragazza era vacuo spento e nei suoi occhi grigi Michael non scorse ciò che si era abituato a vedere arroganza dolore vita non c'era niente di Ellen di fronte a lui i ricordi lo assalirono prepotenti sadici comprese tutto ciò che era avvenuto ogni singolo colpo partito dalle loro armi tutto nel giro di una manciata di secondi rivide se stesso sparare ad Alexander in pieno volto eppure faceva più male l'immagine di Ellen che puntava alla sua amica che premeva il grilletto senza la minima esitazione non potevano rimanere così Michael doveva fare qualcosa cercò di prenderla alla sprovvista e disarmarla ma Ellen se ne accorse e si rivolto contro di lui e in quel brevissimo lasso di tempo la consapevolezza attraversò la sua mente se Ellen lo avesse ucciso e poi fosse rinvenuta avrebbe capito cosa aveva fatto avrebbe capito di aver ucciso lui e Janet di essere stata colei che aveva strappato la vita alle uniche due persone di cui le importasse qualcosa Michael ignorava quanto tempo le ci sarebbe voluto per insavire e se Darkus che era riuscito a soggiogarli sarebbe arrivato al termine degli spari per disfarsi anche di lei se fosse stato Michael a sparare però le avrebbe risparmiato tutto quello una morte certa e il dolore immane che l'avrebbe preceduta forse Janet e Lilian erano ancora vive e lui avrebbe potuto afferrarle e portarle al sicuro, salvarle si sarebbe fatto carico lui stesso del dolore di Ellen non le avrebbe permesso di provare altra sofferenza sollevò la pistola e le sperò all'addome di nuovo l'aria di nuovo la sua mente Michael sbatte le palpebre e nel farlo ricordò ogni cosa al solo sguardo vide Alexander, Lilian e Janet tutti loro stavano puntando le armi contro di lui un'espressione spaventata su tutti i loro volti provò un senso di sollievo mai conosciuto neanche quando la sera prima aveva scoperto che Ellen era uscito indenne dall'avventura a casa di O'Benion o quando suo zio Ian aveva consentito crescerlo tenendo nascosta alla sorella l'amara verità sorriso appena voltandosi verso di Ellen e allora un macigno gli crolla sul petto lei non c'era ancora fissava Lilian pronta a sparare al minimo movimento della ragazza lo sguardo vuoto rivolto a lei e a lei sostitando Michael respirò piano un respiro poi un altro Ellen non si stava curando di lui questa volta l'avrebbe salvata questa volta avrebbe fatto in modo che rimanesse in quel mondo duro e crudele e amaro a rimpiangere ogni scelta fatta nella sua fottuta vita a combattere accanto a lui per un briciolo di felicità grazie